Ah, ancora Giambruno, sempre lui. È da una settimana che non si parla d'altro. Ma dico io, con tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese, è possibile che dobbiamo sempre stare presso a questo? Ma la cosa che a me sorprende di più è che gente come lui e come lei volevano spiegare agli altri come deve essere fatta una famiglia tradizionale. E no, su questo, coerenza assoluta. Cioè? Ma scusa, lui faceva il galletto con tutte quante, nonostante fosse fidanzato? Sì. È un macista sessista un po' presuntuoso che sognava le cose a tre? Eh sì. Adesso si ritrovano davanti a un legale, separati, pure con una figlia? Eh già. Ecco, questa oggi è la tipica famiglia tradizionale. Lei comunque ne esce a testa alta da questa storia. Anche perché, ricordati, non è la goccia d'acqua che traccia il solco della pietra. Ma è la spada che lo difende. Eh sì, esatto. Piuttosto la domanda che nessuno sa ancora fatto è un'altra. Ossia? Ma se tu non sai riconoscere e capire come è fatta la persona che c'hai vicino da dieci anni, se tu non riesci a gestirla, a capirla fino in fondo, a sapere la sua vera natura, quali sono i suoi reali bisogni nonostante ci dormi pure assieme... Come fai a capire e a gestire i bisogni di altri 60 milioni di italiani che neppure hai visto mai? Ecco, hai capito?